Il settore mobilità e sviluppo del Comune dell'Aquila ha formalizzato la risoluzione del contratto con l'MP per la gestione del parcheggio di Colle Maggio, revocando la concessione che risaliva al 2002. La società dovrà pagare oltre 277.000 euro come corrispettivo rivendicato dal Comune per gli incassi della società dalle tariffe del parcheggio di Colle Maggio, come previsto dalla Convenzione. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il parcheggio dovrà essere restituito definitivamente al Comune, che affiderà la gestione provvisoriamente all'AMA, l'azienda per la mobilità aquilana. Una vicenda complessa che quasi sicuramente finirà nelle aule di Tribunale, con situazioni di degrado del parcheggio, i debiti accumulati dalla società nei confronti del Comune e il sottoutilizzo del parcheggio, tra i motivi che hanno reso inevitabile dal punto di vista dell'amministrazione comunale la revoca della concessione. Abbiamo previsto una fase temporanea di gestione da parte di AMA e nelle more si attiverà tutta quanta la procedura nuova di affidamento, la procedura di gara. Quindi speriamo in una collaborazione da parte degli attuali gestori e in una riconsegna, diciamo così, in pace, senza ricorsi, senza niente. Nel frattempo convocheremo anche i lavoratori, perché ci è stato richiesto dai sindacati e dalla ConfCommercio un tavolo, quindi sentiremo anche loro, ma su questa cosa si devono studiare le soluzioni che non sono semplici. È una struttura importante perché tutta la città ci chiede parcheggi. Noi abbiamo un megaparcheggio con oltre 700 posti vuoto. Il tunnel è chiuso spesso, cioè se è aperto non funziona il tapirulana. Noi vogliamo mettere mano su questa struttura, renderla moderna, renderla fruibile alla città e l'attuale gestione non ce l'ha consentito. I tempi, diciamo, per noi sono brevi perché già abbiamo attivato le procedure per intervenire con il tapirulana e quindi porre in essere i necessari atti di riparazione. Dopodiché, a breve, insieme al sindaco che si è fatto promotore di questa splendida iniziativa, presenteremo dei progetti per la riqualificazione del tunnel che sono stati fatti dall'Università di Ingegneria e dagli studenti dell'Università.